Lo screening neonatale che in Toscana viene eseguito gratuitamente su tutti i neonati dal 2004, da quest'anno si allarga nuove patologie e una guida realizzata dalla Regione Toscana con l'ospedale pediatrico Mayer di Firenze e la rete pediatrica toscana spiega ai genitori come il test, una semplice puntura sul tallone del bimbo, possa individuare precocemente oltre 40 malattie metaboliche che se non curate in tempo possono anche essere causa di morte. È possibile anticipare, vedere e diagnosticare malattie anche rare, anche malattie problematiche ed intervenire in modo precoce con la cura e la terapia. È in preparazione, abbiamo preparato e oggi presentiamo anche una brochure che spiega ai genitori di che cosa si tratta e che cosa si vuole andare ad accertare. Le nuove patologie introdotte nello screening neonatale sono tre malattie, l'isosomiale e le scide, le immunodeficienze congenite severe, come spiegato nella guida, diagnosticarle prima della comparsa dei sintomi permette l'avvio di terapie specifiche e di salvare anche la vita dei piccoli appena nati. Attraverso questa rete che avviene in collegamento con i punti nascita, in modo che ogni anno praticamente almeno tre classi di bambini, possiamo dire numericamente, venchè ha intercettato anzitempo la possibilità di intervenire nel prevenire malattie metaboliche e anche altri tipi di malattie, dove la Regione Toscana è all'avanguardia in questi anni nello sviluppare un sistema di screening che è uno dei primi ruoli di un servizio sanitario pubblico. La guida sullo screening neonatale è disponibile in italiano in tutti i punti nascita della Toscana, in cinese, in arabo, albanese, francese, inglese e presto anche spagnolo sul sito internet del Mayer.